Dovremmo essere live, buona serata a tutti, benvenuti a questo appuntamento con la celebrazione del primo volo di un essere umano nello spazio nel contesto della manifestazione internazionale Yuri's Night, edizione 2020, che abbiamo ribattezzato Lockdown Edition perché diversamente da come i nostri affezionati sono abituati ad assistere fisicamente al planetario di Lecco, quest'anno siamo costretti ad una versione alternativa in cui ognuno a casa propria ci può seguire da YouTube, da Internet e per l'occasione c'è con noi un amico che è socio anche del gruppo Astrofili, nonché socio e presidente dell'associazione ISA, che ci ospita sul canale di Astronauticast, sul podcast di spazio in italiano che ogni settimana tiene compagnia in lingua italiana a tutti gli appassionati di spazio, vi do subito la parola per l'introduzione e poi cominciamo questa chiacchierata in cui ripercorreremo l'epopea del volo di Yuri Gagarin in maniera il più possibile discorsiva, quindi senza essere troppo noiosi, o almeno speriamo, in una oretta e mezza cerchiamo di darci questo limite di chiacchierata. Buonasera Marco, benvenuto anche a te. Buonasera Gian Pietro e buonasera a tutti i nostri ascoltatori, questa sera senza sigle, senza niente, perché sono già incasinato così a fare da coregia, poi in realtà ci siamo divisi i compiti, speriamo di portarvi una serata a ricordo del nostro Yuri Gagarin e della sua impresa, più che altro non è un ricordo solo di Yuri, ma che celebriamo, ma anche del primo volo dell'uomo nello spazio, quindi è importante ed è un giorno pieno di anniversari tra l'altro, perché poi piano piano nel corso degli anni questo 12 aprile è diventato per puro caso, forse o forse no, l'anniversario di altre cose prime, quindi sarà interessante. Spero, ce la metteremo tutta. Approfittiamo anche per chi lo ha celebrato per augurare la Buona Pasqua, che si sta ormai per concludere, e per chi magari rivedrà questo video successivamente, oggi è il 12 aprile 2020 e l'occasione è esattamente di celebrare 59 anni dopo il primo volo di Yuri Gagarin, avvenuto ricordiamolo subito il 12 aprile del 1961, quindi il prossimo anno si celebra una cifra tonda, esattamente lo stesso giorno, quindi abbiamo approfittato, nonostante la Pasqua, penso che la gran parte di voi probabilmente con la pancia piena, io lo sono, tra il franzo di Pasqua, la cena di Pasqua, l'uovo di cioccolato, la colomba e chi più ne metta, però spero che resterete con noi per questa oretta e mezza di chiacchierata. Bene, quella che vedete è la slide introduttiva della piccola carrellata di immagini che ci siamo preparati, Marco do a te l'onere di far scorrere le immagini, passiamo subito alla slide successiva, in cui raccontiamo come, ahimè, in passato, fino allo scorso anno, quest'anno temo che cose di questo tipo non si riescano a fare, ma speriamo di poter tornare a farlo il prossimo anno, non abbiamo mai fatto niente del genere al planetario di Lecco, però la Yuri's Night, che vi ricordo appunto è una manifestazione internazionale a cui chiunque può aderire in tutte le modalità possibili e immaginabili, purché sia un'occasione di festa e di celebrazione, e queste sono alcune immagini tratte da party, feste, organizzate negli anni passati, proprio in occasione della celebrazione del volo di Yuri Gagarin, vedete che c'è chi si è messo uno Sputnik al contrario in testa, e c'è chi ha festeggiato con delle compagne di volo interessanti, direi, quindi può essere un party in discoteca, noi in realtà abbiamo sempre fatto una conferenza semiseria, anzi, penso proprio che la prima edizione in planetario, Marco, sia stata operativa, poi da quando ti sei trasferito in Germania mi è un po' passato il testimone virtuale, però negli anni direi che ci siamo divertiti anche noi, è sempre stata poi un'occasione per ritrovarci alla fine della serata con una pizza, questa sera magari lo facciamo virtualmente con un pezzo di uovo di cioccolato, se siete d'accordo. Poi allora me lo devo andare a procurare, tutto vero Gian Pietro, tra l'altro voglio scusarmi con chi ci segue in diretta video, perché ho sempre la faccia puntata di là, la verità è che ho due schermi e quello della regia è alla mia destra, non posso tenerlo davanti, quindi devo continuamente offrire il mio magnifico profilo, ma questo è l'unico motivo, non è che non vi voglio parlare senza guardarvi in faccia. Proprio così è una celebrazione, quella del 12 aprile, che può sembrare magari frivola, frivola fatta in questo modo, ma è anche un modo di attirare più persone che normalmente magari non sono il pubblico abituale di conferenze, incontri di stampo prettamente divulgativo e scientifico, attorno a un concetto che è quello dell'umanità che lascia la sua culla e si avvicina allo spazio, e il primo di tutti a fare questa cosa fu proprio Yuri Gagarin nella mattina italiana del 12 aprile, e tante persone che magari non sono necessariamente appassionati vengono in contatto con la storia dell'astronautica e soprattutto l'epica impresa di Yuri Gagarin e di tutto il mondo sovietico di allora che lo circondava grazie a queste feste. Negli Stati Uniti si ritrovano in discoteca o la NASA addirittura proprio mette a disposizione alcune strutture internamente in alcuni dei suoi centri perché si è resa conto del grande ritorno di immagine che può avere questa manifestazione nel coinvolgere il pubblico e ottenere approvazione quando poi naturalmente si arriva al momento decisorio dove si deve convincere il politico locale funziona ancora di più così negli Stati Uniti dove c'è un radicamento del candidato del diciamo del parlamentare chiamiamolo così o del senatore con il suo territorio di provenienza e quindi è importante coinvolgere il pubblico locale perché al momento giusto questo pubblico può rivolgersi direttamente al senatore o al membro del congresso e spingere perché vengano approvati i fondi della NASA o perché in generale ci sia un come posso dire una un'affezione nei confronti dell'ente spaziale che viene sentito con grande profondità anche se poi ovviamente la festa non riguarda certo la NASA nel senso stretto ma semmai la controparte russa sovietica nel caso storico diciamo e questa è un po' la la genesi della Yuris Knight che è stata iniziata da una da una ragazza allora ragazza adesso non proprio tantissimo loretta Hidalgo se non ricordo male che poi era stata impegnata in in vari esperimenti è stata anche un contractor di NASA e questa cosa si è piano piano espansa e siamo contenti di cercare di farne parte ogni anno anche se quest'anno è veramente un po' più in isolamento e non possiamo come possiamo dire non possiamo metterci come questi tizi qui in basso a sinistra eccolo col turbante giallo eccolo col coso a pera a carota forse sono più vicini a noi rispetto al fustacchione con le due squinzi e peraltro io mi sono registrato come di consuetudine tra gli eventi ufficiali sul sito della manifestazione yurisknight.net e ahimè quest'anno il conteggio degli eventi è veramente limitato perché vengono contati a oggi 107 eventi in 29 paesi sparsi per il mondo quindi molti meno rispetto a quelli degli anni passati ma le condizioni attuali non lo consentono però noi facciamo parte di quei 107 quindi se andate a cercarci ci trovate intanto un augurio di buon compleanno a marzio brambilla che dice di essere nato oggi quindi tanti auguri marzio peccato combinare due feste sarebbe stato meglio avere qualche giorno così avresti mangiato il doppio dei dolci probabilmente e anche un saluto a giovanna che ci segue da reggio calabria ciao è già iniziato il caldo al sud qui in germania stiamo ancora un po danzando intorno alle temperature oggi era bellissimo adesso è scesa sotto i 10 gradi come forse più naturale in questa stagione qui va bene ciampi cosa dici ti chiedo magari di condividere il mio schermo solo perché avevamo pensato anche di sincronizzare idealmente la nostra chiacchierata con questo video che banalmente sto mandando in play da youtube che è un video che è stato realizzato in occasione dell'edizione di qualche anno fa credo 2011 o 2012 adesso non ricordo esattamente in cui è stato sincronizzato l'audio della missione di yuri gagarin che ovviamente proviene dalle registrazioni ufficiali e originali dell'epoca con una completa orbita ripresa dalla stazione spaziale internazionale peraltro se non ricordo male correggimi marco le riprese sono state curate a suo tempo da paolo nespoli quindi da ecco la nostra nostra nazionale che esatto che era in orbita durante la sua prima missione di lunga durata a cavallo fra il 2010 2011 si è occupato proprio della ripresa di un'intera orbita quindi di questi circa 90 minuti che hanno accompagnato anche il volo di yuri gagarin lo trovate su youtube si chiama first first orbit e la cosa molto interessante è che proprio perfettamente sincronizzato come dicevo con l'audio quindi ce lo teniamo un po anche come guida per la durata della proiezione però se qualcuno di voi è curioso lo può andare a rivedere direttamente da youtube ok esattamente allora qui giampietro abbiamo un problema che se tengo questo schermo qui non posso fare vedere questo schermo qui no ma infatti io le alternerei senza problemi le alterniamo perfetto allora ogni tanto torniamo sul video di apertura con yuri gagarin che va con il pulmino alla base del razzo ecco infatti vedi che il direttore della fotografia paolo nespoli ha fatto lui riprese luce e tutto quanto a bordo della stazione spaziale allora vogliamo fare un piccolo inquadramento storico gian pietro metto la sua in primo piano mentre yuri viene infilato nel razzo sì ecco questo è un po per contestualizzare l'epoca in cui il volo di yuri gagarin è avvenuto parliamo diciamo del dopo seconda guerra mondiale in cui come potete immaginare le due superpotenze mondiali che a quell'epoca erano gli stati uniti e la loro unione sovietica a guerra conclusa non sono tornate diciamo in una condizione in una regime di pace e di appacificazione reciproca ma si è mantenuta un forte una forte competenza dal punto di vista militare oltretutto a conclusione della seconda guerra mondiale la germania nazista aveva sviluppato in realtà per tutto diciamo la dorata della guerra un know how molto importante sulla missilistica sulla tecnologia dei razzi che chiaramente erano stati pensati non per un utilizzo di volo spaziale umano non ma per scopi balistici quindi per poter ospitare delle testate balistiche e andare a bombardare le città nemiche e alla conclusione della seconda guerra mondiale questa tecnologia ha fatto vola sia ai sovietici che gli americani che hanno reciprocamente portato nei propri paesi le teste più diciamo importanti di di tutto il programma missilistico nazista e questo è il contesto in cui si va poi ad inserire tutta la costruzione del del programma spaziale sia sovietico che che americano quelle che vedete in fotografia sono le testate v2 che erano state costruite durante la seconda guerra mondiale dai tedeschi e che servivano per bombardare londra quindi dei razzi che avevano la capacità di andarsi a sollevare ad alta quota e con una diciamo volo parabolico andare a precipitare per esempio su londra quindi a una distanza per cui un lancio di una bomba diciamo tipica classica non era pensabile la distanza era troppo elevata sì tra l'altro se per un secondo sospendiamo la nostra il nostro filtro rispetto alla terribile realtà di queste armi puramente ingegneri che naturalmente qui era stato messo in un certo tipo di uso quello bellico ma che aveva saputo grazie poi alla collaborazione con altri ingegneri una parte dei quali lui si porterà appresso nella sua scelta di arrendersi alle forze stati unitensi che avanzavano si porterà appresso negli stati uniti in questo razzo più che una vera e propria potenza distruttiva perché portava con sé di fatto se non ricordo male circa una tonnellata di esplosivo che certo è una quantità molto grande ma nell'insieme nel contesto della quantità di bombe che venivano sganciate su londra o sulla germania nel contesto delle campagne di bombardamento era poco nulla cioè se vogliamo guardare dal punto di vista delle vittime causate dalla v2 il numero non è zero purtroppo ma rimane un'arma dal risultato operativo veramente limitato quello che invece non era straordinariamente avanzato erano le tecnologie all'interno di quest'arma tra cui la propulsione a liquidi e avere a bordo dai giroscopi sostanzialmente questo razzo era già in grado di avere un sistema di guida che impostato correttamente lo portava dalle coste di quella di penemunde che oggi è sostanzialmente in polonia sopra la città di londra ne venivano costruite parecchie e uno dei bottini più interessanti che gli americani e i russi si porteranno via ma principalmente gli americani perché furono più veloci a raggiungere il sito di penemunde furono vari esemplari già pronti al volo ovviamente non lanciati da portare negli stati uniti nel deserto da parte americana e in russia insieme a diciamo alla restante parte degli ingegneri tedeschi che per sfortuna o per scelta decisero di restare nella zona di influenza russa e non di legarsi al destino di von brown con gli americani tra l'altro c'è un volume per chi volesse mai approfondire una serie di volumi curata da asif siddiki e da boris chertog che raccontano gli i primordi della della missilistica russa raccontano come poi a un certo punto i russi si stancarono tra virgolette di lanciare le v2 che si erano portati a casa le avevano ribattezzate r1 e decisero di fare uno spin off quindi di partire con il loro sviluppo rimandando davvero a casa in germania nella germania est il gruppo di scienziati tedeschi e non non condivisero la scelta americana di naturalizzarli di integrarli nel tessuto sociale sovietico anche se inizialmente il gruppo di von brown era completamente segreto e continuarono con un loro programma di sviluppo capeggiato da personaggi che andremo magari a conoscere nel corso di questa serata intanto marco mi scrivono dalla chat anzi approfitto saluto franco il nostro presidente che il tuo audio è leggermente più basso del mio non so se puoi un pochino aumentarlo anche se mi dicono che non è così critico ma posso innanzitutto parlare più vicino ma poi se condivido il tuo schermo ecco io riesco a fare un magheggio sul mio senza che nessuno se ne accorga prendi tempo giampi che prova tira sul volume ecco sì intanto quello che vedete qua sullo schermo nel frattempo che noi chiacchieravamo il video chiaramente è andato avanti e ovviamente la ripresa di tutta la fase orbitale quindi non non abbiamo visto la fase di lancio ma l'orbita completa quindi dall'inserimento orbitale a completare completamente l'orbita e questo è quello che Yuri Gagarin ha avuto modo di vedere durante il suo volo quindi in realtà ecco non vi aspettate un film in cui ci sono scene di astronautica tipiche da film di fantascienza è un'orbita che inquadra la terra perché in realtà Yuri Gagarin non aveva molto altra possibilità se non guardare in mezzo alle sue gambe e vedere la terra che gli passava sotto però tant'è quindi se volete diciamo rivivere in prima persona il suo la sua esperienza questo è quello che dovete fare tenervi per un'ora e mezza la terra che vi passa sotto non che sia poco affascinante per per la verità vediamo ok io dovrei aver alzato il volume magari adesso assordo tutti quanti potrebbe essere utile un feedback dalla chat io lo leggo in segreto sì ti sento un po più alto quindi secondo me è buono ok 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 ho alzato di un 20 per cento vediamo un po come va e se riesco magari riporto questa slide in primo piano parlavamo della storia russa e del fatto che se negli ultimi anni se con la conquista della luna forse sarebbe meglio dire sono stati gli stati uniti e la nasa a diventare un po l'epitome dell'idea di esplorazione spaziale l'inizio della storia dell'astronautica non è stata affatto così perché in terra sovietica che sono nate o in terra russa sono nate varie cose non solo il primo uomo nello spazio ma anche l'idea stessa di viaggio spaziale compiuto all'interno di un veicolo dotato di giroscopi e lo studio delle equazioni matematiche per poter predire calcolare le prestazioni di un razzo che nel 1900 via reazione ed è un testo fondamentale grazie al quale praticamente nasce la missilistica moderna e colpiscono alcuni estratti di questa sua opera per esempio questo disegno che vedete in primo piano in cui notiamo in questa sfera ideale delle persone che sono in cui lui già anticipa l'assenza di peso gli effetti dell'assenza di peso e anche se si tratta di un disegno chiaramente non tecnicamente come posso dire accurato colpisce come in un periodo storico agli inizi del novecento già si riuscisse a immaginare con un certo grado di precisione quello che poteva essere le operazioni nel cosmo nello spazio e soprattutto come dare ai mezzi matematici per tutti gli ingegneri di qualunque parte del mondo fossero per cominciare a lavorare all'idea di un razzo c'è incredibile come appunto questa cosa se la collochiamo siamo ancora ben lontani dal primo volo di uri gagarin eppure già dal punto di vista teorico aveva visto giusto e l'idea era era giusta quindi ben molto prima però già incredibile quello che era riuscito a teorizzare ovviamente ben lontano dal realizzarlo certo poi ziolkowski ha una vita molto interessante qui guardate per tutta la sera sarà un po una costante per chi ha voglia e tempo di approfondire magari approfittando dai giorni di quarantena la storia stessa della vita di ziolkowski la sua biografia magari partendo da da quei viaggi che ogni tanto si fanno su wikipedia che riportano giù giù nella tana del bianconiglio e non uscite se non dopo ore di salti da una pagina all'altra giampi vuoi dire qualcosa tu su corale vogliamo magari dare uno sguardo dove siamo arrivati in orbita sì vediamo sempre la terra che ci passa sotto quindi non abbiamo chiaramente una sovrapposizione con la mappa che ci consente di riconoscere la terra che passa sotto quindi non abbiamo capacità di discriminare quello che stiamo vedendo anche perché è questo è qualcosa che gli astronauti riferiscono dallo spazio i confini dei paesi non sono distinguibili chiaramente sono ben distinguibili le terre emerse dagli oceani i continenti però ovviamente i prof i confini degli stati sono invisibili si vedono le nuvole si vede tutte le formazioni naturali ma capire esattamente dove si sta passando le cose si semplificano un po dove si va a fare un passaggio nella parte notturna della terra perché chiaramente le città sono dei grossi punti luminosi ben riconoscibili e si riesce a collocarle in modo più preciso altrimenti diventa complicato tanto più che a quell'epoca Iori Gagarin era il primo che aveva questa vista in diretta per la prima volta ok possiamo tornare se vuoi sulla esatto ok vai 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 pure lo accennavamo prima no Gian Pietro del fatto che i sovietici si portarono a casa un carico di di v2 e qualche scienziato tedesco da diciamo così interrogare e da questo lavoro iniziale nacque il primo razzo derivato direttamente dalle v2 chiamato r1 e a capo di questo progetto c'è un altro personaggio assolutamente da scoprire sempre con uno di questi di queste discese nella tana del bianconiglio che è Sergei Pavlovich Korolev Korolev che nasce nel 1907 e è un altro di questi personaggi che nascono con il pallino per il volo e per il volo spaziale successivamente e più o meno all'età di 30 anni viene a cadere vittima di una delle purghe famose purghe staliniane dove gran parte dell'intelligenza tutti quelli che in una sorta di follia paranoica venivano considerati i possibili problemi dal sistema ai lavori forzati quando non fatti che viene mandato in Siberia dove lavora per molti anni in una situazione diciamo logistica spaventosa una situazione che lo minerà dal punto di vista della salute e spoiler lo vedete comunque come ultima linea di questa slide morirà relativamente giovane molto giovane con il progetto sovietico di conquista dello spazio ancora in corso lasciando di fatto un progetto o una serie di progetti orfani della sua guida della sua capacità visionaria e nel 1944 naturalmente al termine della guerra qualcuno si ricorda del fatto che ci sia un personaggio del suo calibro imprigionato e viene liberato sotto richiesta di Khrushchev e inizia a lavorare appunto al programma missilistico i vari design dei razzi si evolvono fino ad arrivare all'R7 che tra l'altro dovreste avere se siete un po' appassionati più o meno a tutti a mente perché il razzo con cui il nostro Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti e altri astronauti italiani compreso gli astronauti che sono partiti qualche giorno fa alla volta dell'ISS ancora oggi arrivano nello spazio l'R7 è, lo vedremo poi avanti forse l'incarnazione migliore, l'epitome del lavoro di Koroliov che comunque ha una mano anche nella progettazione della capsula Vostok insomma un vero e proprio genio il motore, il volano senza il quale il programma spaziale sovietico come lo conosciamo oggi probabilmente non avrebbe mai preso inizio sì, è incredibile come ancora una volta nonostante appunto come stai dicendo tu siano passati ormai 60 anni i sovietici, allora sovietici e oggi russi volano fondamentalmente ancora con lo stesso progetto è voluto nella parte ovviamente elettronica e nell'avionica ma fondamentalmente la base del progetto è ancora quella l'R7 di Koroliov chiaramente dovuto al fatto che quando le cose funzionano bene non c'è ragione in un ambito in cui la progettazione di nuovo hardware è complessa e richiede tanto tempo di stravolgere troppo quindi vola bene e si continua ad utilizzarlo naturalmente va ricordato che questo sviluppo della propulsione a razzo non era tanto dovuto alla volontà di portare il primo uomo nello spazio quanto alla volontà di battere gli americani nella corsa alla costruzione del razzo capace di portare una testata nucleare sulle teste del proprio avversario politico e in questo senso c'è una grande significanza nell'arrivo all'R7 perché è capace di portare circa 4 tonnellate e mezzo in orbita per dimensioni e per massa trasportata è il vettore ideale per spedire una bomba atomica negli Stati Uniti ovviamente siamo in un periodo di guerra fredda ed è molto meglio per tutti che questo mostrare i muscoli si sia svolto in un campo di ricerca scientifica piuttosto che in veri e propri esperimenti nucleari che poi ci sono stati ma che di fatto non erano visibili erano quasi segreti mentre è stato strombazzato molto bene dal momento del successo dello Sputnik nel 1957 giù giù per tutta la storia dell'astronautica sovietica e americana d'altra parte i successi raggiunti dalle varie persone dai vari gruppi di design è stato strombazzato ai 420 ma un segreto c'è perché il nome di Sergei Pavlovich Korolev è uscito molti molti anni dopo la sua morte l'identità del capo progettista del programma spaziale sovietico fu un segreto di stato per lunghissimo tempo e lo fu anche dopo la sua morte per svariati anni quindi chi fu Korolev lo si scoprì davvero a posteriori mentre Von Braun se lo ricordate collaborava con Walt Disney andava in televisione faceva documentari di divulgazione con dei modellini stupendi raccontando come gli americani avrebbero presto conquistato lo spazio la luna, marte e così via sì anche su questo aspetto questa sera in realtà ci concentriamo solo sulla parte sovietica però potrebbe essere interessante forse lo abbiamo fatto anche in planetario fare una chiacchierata proprio di confronto tra l'approccio americano e l'approccio sovietico di quell'epoca che era radicalmente diverso sebbene l'obiettivo fosse comune nei risultati ma le modalità completamente diverse intanto ecco qua rimostriamo il filmato in cui ovviamente il panorama come vi dicevo prima è quello della Stazione Spaziale Internazionale di cui adesso intravedete bene uno scorcio dei pannelli ma la Terra che passa sotto di nuovo è quello che Yuri Gagarin ha potuto vedere durante la sua orbita il tempo scorre il nostro Yuri Gagarin ovviamente ha impiegato solo 9 minuti ad arrivare in orbita questo è il tempo normalmente impiegato da un razzo per portarsi a velocità 0 e quota 0 a velocità circa 28.000 km orari e quota variabile insomma diciamo intorno ai 150-200 km di quota ma poi può variare non vogliamo neanche entrare in questo ginepraio Gian Pietro quello che può essere interessante forse in questo periodo tristemente d'attualità sono le varie teorie del complotto che la paranoia russa ha dato adito nel corso di tanti anni proprio perché del primo gruppo di cosmonauti selezionato per arrivare al primo volo di cui naturalmente Yuri Gagarin faceva parte alcuni sono stati persi durante l'addestramento per incidenti altri perché sono stati buttati fuori perché trovati ubriachi indegni della loro posizione altri ancora sono stati cancellati nascosti ritoccati malamente ripeto dando proprio il fianco all'inizio di infinite teorie del complotto ma la realtà è che in questa foto vediamo tanti dei protagonisti dell'epopea sovietica e anche umana dell'esplorazione spaziale questo è il gruppo sono 16 dei 20 cosmonauti selezionati nel 1959 e al centro a fare un po' da padre e da protettore c'è proprio Korolioff alla sua sinistra c'è Yuri Gagarin abbastanza riconoscibile ma poi ce ne sono molti altri per un occhio allenato magari tra i più appassionati che possono essere riconosciuti io faccio fatica a riconoscerli e l'ommetto dovrei mettermi a guardare bene le fotografie non te li so indicare tutti nemmeno io ma penso che vabbè vicino al cespuglio di rose in piedi ci sia Lionov il Lionov il primo accanto a lui Komarov alla sua sinistra credo che fece una brutta fine poveraccio a bordo della Soyuz 1 ma questa è un'altra storia ed è per un'altra serata comunque questo è il gruppo è il gruppo dei selezionati e tutti si sottoposero a un molto simile a quella nel volo sentirgli di salire a bordo di una capsula minuscola del diametro di 2,3 metri che però una volta allestita con vari pannelli di controllo era veramente angusta se avete la possibilità di visitare qui qualcuno in chat parla del bellissimo museo di Kaluga non so se a Kaluga ci sia una riproduzione delle Vostok sicuramente c'è il museo dello spazio di Mosca e c'è una riproduzione in scala 1 a 1 anche qui vicino ad Armstatt a Speyer c'è un bellissimo museo dell'aviazione e della tecnologia dove c'è appunto una riproduzione della Vostok che fa impressione vedere quanto piccolo in realtà sia la sfera in cui si dovevano inserire questi personaggi e tutto aiuta a capire un po' come questa conquista richiedesse davvero uno spirito di abnegazione e di preparazione al sacrificio che non è comune con la mentalità dell'uomo moderno di nuovo anche su questo aspetto è interessante fare un confronto con gli americani dove ve li ricorderete i primi astronauti selezionati dagli americani erano avevano un approccio completamente diverso e anche diciamo uno spirito completamente diverso rispetto ai sovietici però di nuovo anche questa è un'altra storia che da raccontare assolutamente e poi certo c'è da ricordarsi che qui siamo ricevo all'inizio in piena guerra fredda quindi l'astronautica è uno strumento di propaganda come molti altri e Yuri Gagarin viene dipinto davvero come un eroe non che non lo sia ma di fatto dopo il suo primo volo si trasformerà in un vero e proprio fetticcio con il quale girare il mondo come propaganda dell'avanzamento del grado di qualità della produzione scientifica e tecnologica sovietica nello specifico Yuri Gagarin nasce nel 34 il 9 marzo del 34 e già a 24 anni consegue il brevetto di pilota militare e viene poi selezionato un anno dopo come cosmonauta ecco vedete qui a Kluschino in Russia questa è la sua casa natale niente di particolare una classica casa di campagna sovietica vediamo se riesco Giampi a saltare avanti eccoci e una delle differenze tu giustamente dicevi che c'è un confronto con gli americani è l'approccio a testare la capsula prima del infilare un essere umano ok dovrei esserci di nuovo visto che il mio audio andava a scatti per un attimo sì sì ci sei ci sei ogni tanto vai a scatti ma ci sei scusate dicevo che una delle differenze di approccio tra russi e americani è come è stata testata la capsula prima di infilarci un essere umano nel caso degli americani preferirono i primati quindi le scimmie e gli scimpanzè nel caso dei russi scelsero i cani perché li ritenevano più facili da addestrare soprattutto nel contesto di essere legati in una specie di cuccia molto ristretta e anche perché in qualche modo erano animali che si erano ritenuti più affidabili in questo senso per studiarne le caratteristiche durante il volo spaziale tutto questo perché naturalmente non si conosceva nemmeno come avrebbe reagito un essere vivente esposto per lungo tempo alla microgravità e alle condizioni del volo spaziale sì ecco in questo senso magari a chi non è appassionato ed esperto può fare specie che siano stati fatti volare degli animali che per quanto addestrabili non hanno ovviamente la capacità di gestione di un mezzo come poi si può pensare l'uomo bisogna chiaramente anche chiarire il fatto che il volo spaziale quantomeno in realtà è ancora così oggi non consiste nel guidare un'astronave come magari siamo abituati a vedere nei film di fantascienza il volo è quasi completamente automatico c'è chiaramente la possibilità di intervento da parte dell'equipaggio ma per quanto riguarda il volo di Uri Gagarin è semplicemente stato un passeggero quindi come ben dicevi tu almeno nei primi voli quello che si voleva capire era la capacità di sopravvivenza di un essere vivente niente di più poi è chiaro che un essere vivente in grado di reagire e di svolgere delle operazioni per far capire se diciamo le capacità cognitive rimanevano immutate rispetto a terra era necessario in fase successive quindi ovviamente utilizzare degli animali che non fossero diciamo degli insetti o animali comunque non gestibili ma in grado di essere addestrati a svolgere dei compiti era fondamentale ecco appunto come dicevi l'approccio è stato ben diverso tra americani e sovietici che hanno scelto due diversi diciamo tipologie di animali però entrambi con la capacità di svolgere compiti ai quali erano stati addestrati assolutamente tra l'altro ricordo che la cagnetta laica che volò nello spazio il 3 novembre del 57 purtroppo non fece una bella fine questa è una cosa che è triste e che ritorna regolarmente nei discorsi moderni è importante ricordare che la storia va giudicata nel suo contesto e che la mentalità era molto diversa a quel tempo anche perché diciamo la posta in gioco era molto alta e ci si dava un valore alla vita animale diverso non che fossero dei sadici i nostri russi anche perché erano felici furono ben felici di riportare a casa moltissimi dei cani che lanciarono nello spazio ma qualcuno purtroppo non fu così fortunato però ripeto per evitare magari delle polemiche solite oggi giustificate la storia va sempre letta nel suo contesto basta andare indietro nel tempo e troviamo cose terribili che oggi non faremmo più o faremmo in modo diverso ma naturalmente così funziona sì peraltro approfitto per ricordare che a chi ci segue sulla nostra pagina facebook del gruppo Astrofili sa che noi in questo periodo di quarantena forzata a casa abbiamo approfittato per qualche evento live come questo ma anche per mettervi a disposizione alcune delle conferenze tenute il venerdì sera in planetario negli anni scorsi e una di quelle che abbiamo già reso disponibile è proprio una conferenza che avevo tenuto io in occasione dei 60 anni del volo di Laika la potete rivedere cercate il nostro canale youtube gruppo Astrofili Deep Space Planetario di Lecco e se siete curiosi ve la potete rivedere intanto vedo che Paolo Nespoli ha scelto di fare delle riprese che ripercorrono in parte le parole di Yuri Gagarin che scorrono sullo schermo e non ho potuto fare a meno di notare che l'inquadratura era piena di puntini bianchi che sembravano sai la polvere sull'obiettivo in realtà quelli sono sono i pixel della macchina fotografica bruciati dalla permanenza nel cosmo dove manca molta dell'atmosfera che fa da scudo ai raggi cosmici che invece sono libri di bombardare non solo i ccd delle fotocamere ma anche i corpi degli astronauti va bene allora parlavamo delle caratteristiche tecniche della Vostok è una piccola automobile di fatto come dimensioni ha una lunghezza di 4,4 metri un diametro di 2,3 pesa circa 4 tonnellate quindi bella massiccia confrontata con un'auto di pari dimensioni portava con sé 270 kg di carburante che serviva per manovrare e per frenare in modo da ricadere a terra era alimentata a batterie niente pannelli solari fece il suo primo volo nel 1960 quindi ovviamente portò in orbita inizialmente nessuno poi del Ivan Ivanovich un manichino e poi cani e poi alla fine Yuri Gagarin e fece il suo ultimo volo nel 1963 perché lasciò posto alla Voschkod che era di fatto una Vostok agli ormoni e poi ad altri veicoli spaziali che erano già più astronave come la Soyuz anche qui però ci andiamo a infilare in un'altra storia una cosa importante che voglio risottolineare che ha accennato Gian Pietro è che nel corso del suo volo Yuri Gagarin era un passeggero non era ai controlli della Vostok il computer di volo era bloccato e non era diciamo sotto chiave non era possibile per lui intervenire e quindi tutte le manovre dovevano essere seguite in maniera eseguite in maniera automatica fu quindi sì una figura eroica ma purtroppo non fu lui ai comandi della navicella anche perché avrebbe magari potuto aiutare in alcuni momenti che scopriremo tra poco di problemi durante la sua missione sì peraltro una delle cose che potete vedere ascoltando l'audio del video first orbit anzi in realtà ascoltare non vedere è proprio questo il fatto che tra le domande che gli venivano fatte c'era come ti senti stai bene sei lucido proprio perché non era mai successo prima che un essere umano fosse in orbita e quindi anche la risposta e il comportamento del suo corpo e delle sue capacità una volta raggiunta l'orbita era qualcosa di mai sperimentato quindi anche a fronte di questo non sapendo quello che sarebbe successo la gestione del volo doveva essere completamente automatica e non demandata al pilota tra virgolette esatto comunque a bordo c'erano delle strumentazioni anche abbastanza sofisticate perché qui non parliamo di strumentazioni elettroniche vere e proprie ma forse sarebbe più corretto Gianpietro correggimi parlare di strumentazioni elettromeccaniche quasi una cosa steampunk da un certo punto di vista dove ci sono molte componenti analogiche non certi circuiti integrati e dove piccoli servomotori insieme a ingegnosi soluzioni meccaniche andavano a sopperire la mancanza appunto di una tecnologia che sarebbe stata scoperta un sacco di tempo dopo e non lo so a me piace sempre vedere queste tecnologie come il Globus il sistema che c'è qui al centro con la riproduzione dell'emisfero terrestre che era in grado di rappresentare con reale ti sentiamo adesso no dico che mi affascina sempre vedere questi sistemi come il Globus che è questa sfera al centro che riesce a rappresentare in maniera abbastanza fedele la posizione della Soyuz sulla sfera terrestre quindi particolarissima sì ecco era peraltro il modo per Yuri Gagarin di capire dove si trovava non aveva di certo altre possibilità e sì molto molto bello pensare che con una tecnologia tutto sommato non evoluta come ancora fatemi tornare alla fantascienza quella che vediamo nei film sulle sulle astronavi immaginarie vi ha comunque consentito qualcosa di mai tentato prima e qua vedete bene l'interno della capsula ovviamente una riproduzione con diciamo il quadro comandi e tutto quello che aveva a disposizione di Yuri Gagarin ben poco proprio a fronte di quello che abbiamo detto prima sì magari ecco si può solo far notare al centro dell'immagine la telecamera che era puntata verso il viso di Yuri Gagarin e che è quella che poi ha ripreso le immagini famosissime hanno fatto il giro del mondo penso che chiunque di voi ha visto almeno una fotografia e un'immagine di Yuri Gagarin ripreso all'interno della Vostok quella era proprio la telecamera deputata a quel compito intanto salutiamo il nostro amico Paolo che ci segue credo da Heidelberg allo Freire Stern Freire Stern più vicino a te che a noi più vicino a me che a noi che a voi sì un comparto strumenti molto molto semplici così come molto semplice era l'ogiva che avvolgeva la capsula Soyuz al punto che non aveva una chiusura completa ma consentiva all'astronauta di calarsi dentro a questo seggiolino iettabile di derivazione aeronautica che con la sua massa occupava gran parte dello spazio abitabile della Vostok in questa bellissima illustrazione del nostro Giuseppe De Chiara notate proprio le dimensioni il razzo era poco più grande dell'astronauta per non parlare proprio del volume disponibile all'interno della capsula quindi scordiamoci la possibilità per Yuri di fare evoluzioni o sganciarsi dal sedile il suo era proprio un volo diciamo per stabilire il primato ecco non per manovrare non per raggiungere particolari test fisici naturalmente è un primo passo molto importante sì sebbene poi sia sostanzialmente diverso nella tecnologia però l'approccio è del tutto simile a quello della Soyuz manca chiaramente se avete presente come è fatta la Soyuz il modulo orbitale che è un ulteriore spazio a disposizione degli astronauti diciamo aggiunto in punta al sistema della capsula però fondamentalmente le componenti almeno per quanto riguarda il modulo all'interno del quale si trova Yuri Gagari nel modulo di servizio sono del tutto sovrapponibili a come è costruita ancora oggi la Soyuz quindi la dimostrazione che è un'evoluzione di un progetto partito proprio con la capsula Vostok diventata poi Voscod e poi Soyuz scusa Giampi volevo solo tornare indietro di un paio eccolo qua di un paio di diapositive per mostrarvi un'altra caratteristica della Vostok che cioè la sua divisione in due sottoparti principali che possiamo riconoscere anche grazie al colore sul lato destro vedete qui dove sto puntando col mouse il modulo di servizio che conteneva i propulsori e le tanniche del propellente e anche diciamo il necessario per portare ossigeno e calore alla capsula e poi la capsula di rientro dove l'astronauta naturalmente stava chiuso era tenuta a stagna ma Yuri non ha mai sfilato la sua tuta per motivi di diciamo di sicurezza veniva tenuta allacciata al modulo di servizio con delle pratiche stringhe le vedete qui delle bretelle vere e proprie che dovevano essere fatte saltare con una piccola carica di esplosivo e poi questo cordone umbilicale che andava a indestarsi sul lato della capsula la cui superficie era completamente ricoperta da una sorta di fibra ti abbiamo di nuovo perso per qualche secondo sì no mi sono accorto e l'ho smesso di parlare solo per dire che appunto la superficie della capsula è ricoperta di questa sorta di fibra basata in parte anche sul sul sughero è che era progettata per come posso dire bruciare ed evaporare e naturalmente quando qualcosa evapora abbassa la temperatura dell'oggetto su cui è appoggiato tenere sostanzialmente sotto controllo il calore lasciando che la parte esterna della capsula si vaporizzasse con il calore del rientro e queste sono diciamo le due parti fondamentali di una Vostok un design semplice tra l'altro la forma a sfera è quella più semplice da un punto di vista aerodinamico perché con un baricentro calculato in maniera particolare automaticamente si metteva nella posizione giusta una volta distaccata dal modulo di servizio offrendo al lato diciamo verso la terra la parte dotata dello scudo termico cosa che vedete nella parte grigia di cui non è dotata la parte superiore della capsula si quando vedo questa cosa mi viene sempre in mente quel pupazzetto che sta sempre in piedi adesso non ricordo esattamente che nome ha però quello che ha diciamo la base sferica e che non cade mai il principio è esattamente quello cioè la distribuzione del baricentro per garantire che l'orientamento della capsula fosse corretto nel rientro atmosferico esponendo proprio la parte diciamo in grado di dissipare il calore e proteggere i uriagarin all'interno ok allora vi riporto in avanti e qui vedete ancora meglio quello di cui il nostro Giuseppe De Chiara stava disegnando nelle sue tavole si vedono con grande chiarezza i due componenti e vedete la sfera del modulo diciamo abbiamo perso ancora qualche secondo il tuo audio non so ma è un problema tuo locale o è un problema mio locale sì però preferisco non toccare nulla prima di peggiorare le cose comunque si no rinforzavo il concetto che la posizione il modulo di abitabile viene montato nella figura sinistra sul modulo di servizio e si nota bene insomma ecco l'altra cosa che in questa fotografia ma lo avevamo anche nei disegni ma vista diciamo in una fotografia reale l'impressione ancora più accentuata del confronto con la dimensione di un uomo vedete gli ingegneri che stanno lavorando alla capsula sono fondamentalmente più o meno dell'altezza della capsula quindi lo spazio è esattamente risicato a quanto necessario per Yuri Gagarin devo essere onesto non so se queste fotografie si riferiscono esattamente alla capsula di Gagarin però è una Vostok quindi è tutta identica e poi Emilio Cozzi direi di sì se non è un omonimo è uno dei giornalisti che con Astronauticast seguiamo più volentieri per la sua divulgazione veramente complimenti e assolutamente le nostre slide sono condivisibili senza problemi quindi penso che in qualche modo le metteremo a disposizione facendole scaricare magari le rispondiamo ci teniamo in contatto e vi passiamo un link o magari lo mettiamo nelle note di questo video sì magari pensiamo al modo migliore per condividerle ma assolutamente senza problemi intanto qua il filmato del nostro Paolo Nespoli ci mostra una ripresa notturna ovviamente molto rumorosa perché non c'è fonte di illuminazione trovandosi nella parte buia della terra quindi vediamo il rumore della videocamera e probabilmente poco altro poi ecco forse in questo momento si vede qualcosina di più però siamo nella parte notturna quindi senza illuminazione vedete un pochino il confine dell'atmosfera però è buio esatto scossare l'immagine del razzo in diretta e dai fai bravo eccoci e anche sempre per parlare di proporzioni e per capire di cosa parliamo quando accenniamo al razzo R7 qui vediamo qualche numero è sempre un'illustrazione dalle tavole del nostro Giuseppe De Chiara che ci mostra sia la collocazione della capsula dove sta naturalmente sulla cima del razzo il razzo R7 ha tre stadi il primo stadio in realtà sono questi quattro booster questi quattro razzi aggiuntivi aggrappati al corpo centrale vengono distaccati e si aprono come se fossero i petali di un fiore in una formazione chiamata il quadrato di Koroliov proprio perché il meccanismo di apertura ha dei piccoli razzi che spingono per allontanare come se fossero dei petali questi quattro booster laterali dal corpo centrale il secondo stadio è il corpo centrale stesso quello più grande di tutto il razzo e il terzo stadio che spinge per la parte finale della salita volete la parte un po' più la parte un po' più nerd di questa di questa disquisizione sul razzo è che il terzo stadio si accende quando il secondo è ancora collegato ed è per questo che c'è questa sorta di retina tra il terzo e tra il secondo e il terzo stadio con questa forma a punta della sommità del secondo stadio perché i motori del terzo si accendono prima che avvenga la separazione e quindi anche abbastanza particolare da vedere non che si sia mai visto in diretta mi piacerebbe un sacco ma è un po' complicata la cosa sì ecco magari so che la maggior parte di chi ci sta seguendo è appassionato però magari se vuoi fare una piccola spiegazione del perché e del concetto del razzo a stadio per quale motivo il razzo presenta vari stadi e per quale motivo è stato concepito in questo modo allora io spero sempre che purtroppo perdoniate questi glitch tecnici comunque il razzo a stadi sostanzialmente si basa sull'idea di non portarsi dietro della tara il razzo per la stragrande maggioranza della sua massa non è altro che una grande tannica enorme tannica di carburante che vi serve per portarvi appresso sia il combustibile che il comburente quindi la benzina è l'ossigeno con cui la bruciate sto andando veramente a spanne come spiegazione ma per dare l'idea e naturalmente sarebbe utile quando il serbatoio è praticamente vuoto poter buttare via il serbatoio portarsi dietro un serbatoio che si accorcia sempre di più in proporzione a quanto andate a bruciare durante la vostra fase di ascesa vediamo se sta cominciando un ulteriore tremore nella forza con il mio collegamento no no ti sentiamo ti sentiamo vai e quindi questo è quello che succede quando i quattro booster laterali hanno praticamente finito il loro apporto e avviene circa due minuti dopo il lancio è inutile portarseli appresso sono tonnellate di materiale e di motori a razzo che ormai hanno svolto il loro compito possono essere sganciati e questo è esattamente ciò che si fa diminuendo la massa del razzo a parità di spinta il razzo accelera sempre di più la stessa cosa avviene col secondo stadio tra l'altro così massivo una volta arrivato alla fine del propellente è inutile portarselo appresso fino all'orbita viene abbandonato e ricadrà poi più avanti ci sono addirittura dei cercatori d'oro tra virgolette ma dove l'oro è proprio il metallo nobile di cui sono fatti soprattutto le parti dei motori delle tubazioni e infine il terzo stadio dà la spinta finale alla capsula che poi volerà autonomamente con un suo sistema di spinta autonomo e al terzo stadio di solito rimane in orbita seconda poi di come il razzo è programmato per funzionare e ricade autonomamente dopo un po' di tempo perché viene inesorabilmente catturato dagli strati più esterni dell'atmosfera e la capsula raggiunta i 28.000 km può tornare solo sostanzialmente accendendo il suo motore di manovra in fase in direzione opposta a quella del suo movimento e rallentare chi riconosce la costellazione questa è una di quelle che fa una famosa rima dai vediamo chi ce lo scrive in chat ma secondo me sono tutti in grado di riconoscerla aspettiamo che qualcuno ce lo scriva nel frattempo andiamo avanti dai le tre stelline al centro allineate bravo ci ha risposto Katankia e lì c'è Orione esatto complimenti riportiamo la nostra presentazione per parlare di quello che è un altro dei grandi segreti della cosmonautica sovietica cioè la città delle stelle a Baikonur una città costruita o meglio un centro di lancio costruito nei pressi della città di Tiuratam e che era di fatto mancante sulle mappe era un grande segreto di stato e scavata letteralmente scavata nella steppa nel mezzo al nulla in condizioni ancora una volta ambientali veramente difficili dalla quale prendevano il via le missioni sovietiche per un lungo periodo e di fatto è il cosmodrome ancora in uso oggi da cui partono gli equipaggi verso la stazione spaziale internazionale a bordo delle Soyuz ci sei e non ti abbiamo perso ti sentiamo sì sì stavo pensando se volevi aggiungere qualcosa su questo no semplicemente che come appunto dici tu correttamente ancora il cosmodromo cosmodromo che viene tutt'oggi utilizzato oggi si trova nel territorio del Kazakistan però in realtà sotto il controllo della Russia è l'area esattamente da dove ancora le capsule Soyuz oggi vengono lanciate i nostri astronauti connazionali vengono lanciati quindi le immagini anche moderne che vedete sono esattamente dello stesso complesso da cui è partito Yuri Gagarin anche la rampa di lancio ovviamente aggiornata ma è sostanzialmente ancora quella da cui è partito il razzo di Yuri Gagarin esatto e oggi sostanzialmente la Russia paga l'affitto al Kazakistan per essere dove sta ed è di fatto circondata e sorvegliata da militari russi è possibile visitare questo posto pagando un assalato biglietto di ingresso anche se in questo momento ovviamente il lockdown impedisce qualunque movimento e chiaramente lo si visita sotto scorta militare russa non è una località in cui si entra liberamente nonostante non sia più secretata diciamo come lo era a quell'epoca in realtà tutta la zona del complesso di lancio è costellata di veri e propri monumenti esemplare di Buran che era stato vi ricordate lo shuttle russo che era stato ricoverato in uno di questi hangar che poi per mancanza di manutenzione è crollato sul Buran distruggendolo e poi ci sono sparsi qui e là i resti dei razzi R7 cioè quelli costruiti per il tentativo sovietico di conquista della luna e che poi quando fallì si decise di trasformare in gazebi in mangiatoie per animali e quant'altro per poter riciclare parte del materiale ma non i motori a razzo ma questa è un'altra storia i motori a razzo furono messi da parte in magazzino con un trucco ma la raccontiamo un'altra volta questa magari quando ho un computer meno capriccioso sì peraltro sono usciti anche negli anni delle immagini scattate da persone che non so bene come siano riuscite ad accedere a queste località è abbastanza spettrale quello che si vede soprattutto appunto gli hangar dei Buran che sono completamente abbandonati a loro stessi ma che mostrano un progetto che fondamentalmente era completamente in corso ed è stato abbandonato e sembra che il tempo si sia fermato sono un po' impressionanti cercatene insomma ci sono sono molto belle ci sono delle gallerie immagini molto belle che mostrano quello che è rimasto del progetto Buran mai compiuto però affascinanti assolutamente sì affascinanti anche queste immagini un po' vintage del Raz R7 che qui vedete con una copertura termica sulla parte sommitale questa specie di coperta di patchwork è fatto apposta per mantenere sotto controllo le temperature anche perché d'estate fa un caldo torrido d'inverno fa un freddo becco e per una questione anche di controllo attivo delle temperature del carico utile si preferisce mantenere il tutto sotto controllo con una coperta che voi sapete funziona per riscaldarvi ma anche per tenere semplicemente la vostra temperatura quindi se vi coprite d'estate potreste stare più freschi che fuori dalle coperte ma questa è un'altra storia ecco un'altra cosa che questa immagine mostra se di nuovo avete presente qualche fotografia delle moderne Soyuz o di qualche lancio contemporaneo anche l'ultimo avvenuto pochi giorni fa la rampa di lancio è praticamente identica la torre di lancio è molto simile le torri di rifornimento del combustibile dell'ossigeno sono molto simili quindi vedete qualcosa che 60 anni dopo è fondamentalmente quasi invariato ovviamente aggiornato per adattarsi al vettore Soyuz ma fondamentalmente invariato quindi sono vintage ma molto simile alle immagini moderne allora vedo che Alan vuole raccontata la storia facciamo così se non facciamo troppo tardi e il computer non si auto implode stasera ve la racconto alla fine della serata che cosa è successo con i motori dell'R7 scusate con i motori dell'N1 il razzo sovietico per la conquista della Luna e allora siamo arrivati al fatidico giorno il 12 aprile del 1961 e qui vediamo Yuri Gagarin che viene accompagnato alla rampa proprio da una serie di diciamo di ufficiali sovietici ma anche dal nostro Koroliov che come un padre o uno zio se volete lo accompagna e gli dà il saluto finale prima che Yuri si avventuri sulla capsula ti sentiamo ti sentiamo sono appunto le 6.50 io penso che sia orario italiano questo no? sì credo di sì e Yuri in maniera non dissimile da quello che fanno gli astronauti e i cosmonauti ancora oggi prima di salire sull'ascensore che li porta su in cima all'R7 o allo Soyuz come si chiama oggi il razzo il razzo si chiama come la capsula è tutto un mischiotto di confusioni si gira e dà il saluto ai tecnici e a tutti coloro che lo hanno aiutato in questa impresa perché naturalmente come disse Jim Lovell in Apollo 13 l'astronauta è la figura più in vista di un mucchio di persone che devono lavorare per mettere appunto il lanciatore la capsula per gli adestratori e tutti quanti è solo il personaggio più in vista e quindi Yuri sale su la rampa viene poi accompagnato scusami Marco ti eri bloccato per un secondo volevo solo fare una precisazione che abbiamo trascurato per evitare che andassimo avanti per tre ore tutta la parte preparazione pre diciamo rampa di lancio e pre volo ma anche quella è molto interessante se volete approfondirla scoprirete che ci sono dei gesti che ancora oggi un po' per scaramanzia i cosmonauti continuano a replicare nonostante ovviamente non so c'è la famosa cerimonia di piantumazione di un alberello che ha fatto Yuri Gagarin per la prima volta il suo albero ancora lì e tutti gli astronauti cosmonauti ancora oggi prima del loro volo piantano il loro alberello probabilmente proprio per mantenere inalterata la scaramanzia di una procedura che è andata a buon fine o comunque a ricordo dell'epopea di Yuri Gagarin ecco questa cosa non la raccontiamo non l'abbiamo dettagliata nella presentazione però se vi andate a cercare un po' la storia di Yuri Gagarin o come vi dirò alla fine magari vi andate a vedere un bel film che è stato pubblicato qualche anno fa è ben raccontata scusa Marco no no ci mancherebbe Gian Pietro anzi siamo a circa un'ora prima della partenza un'ora e dieci minuti circa e Yuri viene inserito all'interno della capsula sempre qui da riprese dell'epoca potete vedere la sua espressione serena e convinta beh sicuramente insomma un momento un momento importante e penso sia plausibile pensare che sentisse il peso della storia sulle sue spalle vedete qui bene come viene inserito all'interno della capsula e si nota anche il paracadute nella parte posteriore del suo seggiolino e qui c'è un'ulteriore storia che magari andiamo a raccontare più tardi riguarda alcune delle piccole balle frottole o verità accomodate che hanno contraddistinto anche un po' il racconto dell'impresa di Yuri Gagarin per tanti anni sono le sette e Yuri all'interno della capsula dal centro di controllo un vero proprio bunker dal quale Corolyoff e i suoi tecnici seguivano l'andamento del caricamento dei propri e preparavano la partenza c'è un contatto radio vai vai sei ritornato ah quindi sì sono solo un po' disorientato dagli orari faccio un po' fatica anche perché si accavallano gli orari estivi con quelli non estivi a seconda un po' del momento del cambio dell'ora insomma Yuri all'interno della capsula attende con pazienza che da terra non sarà lui a controllare la partenza attende che da terra venga dato il comando di accensione e qui vediamo se riesco a mostrare il video senza fare crashare l'universo magari quattro minuti no ma in questo filmato di Roscosmos vediamo la partenza dell'R7 tra l'altro il colore bianco è dato dal ghiaccio diciamo che il colore bianco che vedete qui sui fianchi del razzo non è dato da una colorazione particolare ma è la condensa che si è congelata perché il particolare che non vi ho detto prima è che combustibile e comburente sono entrambi a temperature bassissime soprattutto l'ossigeno liquido che è svariate insomma centinaia di gradi sotto lo zero sì questo in realtà però è un filmato che riprendeva diciamo faceva un po' un riassunto di tutta la missione di Gagarin ma l'avevo inserito proprio per mostrare la fase del lancio iniziale certo è importante anche notare che ci sono tanti momenti rituali nell'atto della partenza verso lo spazio nei momenti che precedono la partenza del raso uno di questi ancora oggi si vedono molti di questi durante la stazione spaziale sono vere e proprie riunioni di comitati esecutivi esami in cui la proclamazione del superamento dell'esame è fatta in maniera pubblica la scelta delle buste con i temi d'esame fatta in maniera pubblica con firme contro firme tutti questi momenti che giampietro accennava sono in parte una necessità naturalmente ma anche in parte una sorta di teatro che rappresentava un po' la forza dello stato la presenza dello stato della sua burocrazia che accompagnava ogni momento di questo programma e uno dei più grandi delle più grandi imprese ingegneristiche che hanno circondato la creazione delle strutture che hanno portato poi al volo di Yuri Gagarin è l'escavazione del cosiddetto Gagarinsky Start che è questa grande rampa di lancio che si affaccia su un gigantesco fossato che serve di fatto a deflettere le fiamme del razzo lontano dal lanciatore stesso in modo che non rimbalzino all'indietro andando a danneggiare il vettore e la sua forma particolare quasi a forma di punta di freccia è stata progettata appositamente per deflettere dicevo le fiamme ma l'escavazione di quel terreno fu una delle imprese più particolari perché avvenne durante anche i mesi invernali in cui quel terreno è totalmente congelato e non parliamo ovviamente di attrezzature e mezzi moderni ma parliamo di attrezzature degli anni 50 dell'era sovietica quindi non certamente all'altezza di un escavatore moderno e ci fu un sacco di manodopera che doveva muoversi in segreto e portare a termine un'impresa ingegneristica così colossale all'interno di un grande sforzo tecnologico sono le 9.07 Gian Pietro e quindi il nostro Yuri è partito 9.07 italiane è partito alla volta dello spazio eh sì il suo volo durerà un'ottantina di minuti e proprio questa l'esclamazione poi eca lì andiamo e sono stati tanti i nostri stessi connazionali ad aver esclamato probabilmente nella loro mente la stessa parola quando a bordo di un R7 sono o meglio di un Soyuz sono partiti alla volta della stazione spaziale dalla stessa rampa di Yuri Gagarin un momento secondo me emozionante nell'emozione vediamo sono andato troppo avanti sono andato troppo avanti eccoci qua penso Gian Pietro che le slide ci facciano vedere quello che abbiamo un po' raccontato no? quindi sì questo ci mostra un po' il principio che raccontavamo prima del funzionamento a stadi del razzo vedete che siamo sostanzialmente a due minuti dal lancio e come Marco ci raccontava i quattro booster laterali hanno praticamente completato il loro lavoro hanno esaurito il combustibile all'interno quindi al momento che si sgancino ad aprirsi proprio come quattro petali quindi diciamo che l'immagine di Giuseppe De Chiara che ci era stata qualche anno fa preparata proprio in occasione di una Yuri's Night mostra bene il principio di funzionamento come si aprano a petali e nel frattempo poi il razzo continua l'ascesa con il secondo stadio secondo stadio che poi si libera anche dell'ogiva e appunto si perde e andrà a ricadere a terra a migliaia di chilometri dal punto di partenza e il terzo stadio darà la spinta finale verso l'orbita alla Vostok e sono passati cinque minuti quando il secondo stadio finisce il suo propellente eh sì quindi quando spesso ci viene chiesto ma quanto tempo ci vuole arrivare nello spazio lo vedete qua diciamo che a circa settecento secondi dopo l'accensione del razzo fondamentalmente si è in orbita quindi anche il terzo stadio ha completato il suo lavoro e l'orbita è raggiunta poi ovviamente ci sono tutte le procedure di stabilizzazione dell'orbita però si è fuori dall'atmosfera per convenzione si fa coincidere il raggiungimento dello spazio al di sopra dei cento chilometri che è quello che diciamo convenzionalmente viene dato come confine dell'atmosfera terrestre e questo è il tempo necessario a superarlo si va oltre ovviamente quella quota esattamente e l'ultimo stadio per così dire della salita in orbita è liberarsi dell'ultimo stadio del terzo e l'ultimo stadio e lasciare la Vostok in autonomia in volo naturalmente non come nei film di fantascienza dove ma una volta che la capsule è arrivata alla quota giusta e alla velocità giusta a meno che non ci sia qualcosa che faccia da attrito come per esempio l'accensione in senso contrario dei razzi di spinta la capsula semplicemente continua a volare nella sua orbita nell'orbita che le caratteristiche del lancio hanno determinato e siamo a 670 secondi dal lancio che facendo più o meno i conti sono 10 minuti e 10 secondi ecco l'altra cosa che ci tenevo a sottolineare è che dal punto di vista della meccanica orbitale non c'è nessuna differenza tra quello che è successo con il volo di Yuri Gagarin e quello che succede oggi la velocità che il razzo R7 ha impresso alla capsula è del tutto identica a quella che il Soyuz o qualsiasi altro vettore imprimere una capsula che viene portata in orbita e che viene mantenuta in orbita terrestre proprio perché se la velocità è maggiore si guadagna ancora più quota e si va più lontano se è inferiore ovviamente si torna a ricadere in atmosfera quindi non è una velocità dovuta al passatemi il termine alla potenza del razzo ma la necessità di inserirsi in una precisa orbita e di mantenere quell'orbita quindi da quel punto di vista nessuna differenza assolutamente corretto e quindi Yuri che cosa fa nel suo volo guarda nel suo sistema aperiscopio perché non ha un oblò vero e proprio davanti al suo viso ce l'ha in realtà dietro la testa e quindi con un sistema aperiscopio Yuri non fa altro che dare un'occhiata a quello che riesce a vedere fuori e descrive descrive il paesaggio descrive la bellezza dei colori gli aloni descrive il suo stato di salute quindi ricordo che le immagini non vengono inviate in diretta a terra verranno recuperate successivamente quindi l'unico contatto tra il centro di controllo e Yuri il suo collegamento radio il suo racconto della sua esperienza durante questi momenti e naturalmente queste sono immagini riprese successivamente ma credo che quelle di Paolo Nespoli sia non poi vedeva fuori dal finestrino penso che Yuri Gagarin potesse vedere qualcosa di questo tipo eh sì esatto diciamo che l'intento del video ripreso da Paolo Nespoli era proprio quello darci la sensazione di del punto di vista di Yuri Gagarin durante il suo volo con una qualità almeno nelle riprese ovviamente moderna con delle fotocamere moderne naturalmente prima del sto dando un'occhiata a Gian Pietro alle slide successive per capire un po' da che parte mandare il nostro racconto in realtà siamo se muovi il mouse vediamo dove sono arrivati i minuti del video che ripeto va siamo a un'ora e zero sei minuti quindi siamo più o meno a due terzi della durata del volo di Yuri Gagarin circa allora al momento che riporto indietro le immagini per dirvi cosa che naturalmente l'annuncio non è ancora stato fatto il mondo ancora non sa che Yuri è partito o meglio l'annuncio viene fatto durante il volo ma uno sempre dei misteri è quello di aver aspettato l'esito felice del lancio di Yuri prima di annunciare al mondo che un cittadino sovietico era in volo all'interno della sua capsula spaziale intorno al mondo ma gli americani lo scoprono comunque perché scoprono il segnale radio proveniente dalle trasmissioni di bordo e scoprono appunto prima dell'annuncio ufficiale della presenza di un essere umano dentro la Vostok sì sempre perché dobbiamo ricordarci che in quel momento l'obiettivo era vincere la corsa contro tra virgolette il nemico quindi in questo momento la preoccupazione dell'unione sovietica era quella di raggiungere l'obiettivo e poi ovviamente annunciarlo non sbandierare ai 420 il tentativo e poi magari fallire miseramente dando un vantaggio alla controparte americana quanto meno di immagine per i più osservatori vi invito a dare un'occhiata al tracciato orbitale questa specie di sinusoide che è stata disegnata sul mappamondo terrestre non è un'immagine casuale ma vi rappresenta la traiettoria della capsula Soyuz guardatela bene che cosa salta durante la sua unica orbita è un'orbita progettata per volare sopra le masse terrestri dell'unione sovietica o sulle acque internazionali e poi ricadere verso l'unione sovietica evitando accuratamente l'europa ma volando sopra l'africa e la turchia e questa è una scelta ben precisa quindi il momento della partenza è stato calcolato per far sì che la traiettoria fosse corretta e si portasse il nostro iuri a ricadere in territorio sovietico fatto salvo magari qualche incidente che magari avrebbe potuto riportarlo giù in acque internazionali per evitare che la tecnologia e la capsula di iuri cadesse in mani non sovietiche di qualunque tipo ma che anche i rapporti con la cina non erano non erano i di lì era un mondo molto diviso molto diverso da quello che conosciamo oggi speriamo speriamo non ritorni mai più vediamo puoi continuare sei tornato mi dispiace gen pietro probabilmente un reboot del computer risolverebbe ma non so non posso dare siamo in orbit non possiamo fare il reboot niente ci dobbiamo adattare come si è adattato al nostro yuri che però appunto come vi dicevo viene scoperto dagli americani quando fa un passaggio ravvicinato nei pressi dell'alaska il segnale non era criptato quindi era facile sapendo le frequenze riuscire a ricevere qualcosa e alle ore 10 yuri leviathan se non mi sbaglio la voce di yuri leviathan sulle frequenze di radio mosca annuncia vini mani e vini mani attenzione attenzione c'è un cittadino dell'unione sovietica in volo yuri gagarin e naturalmente mentre la notte viene poi ripresa sei tornato non so dove mi sono fermato ma dicevo che viene poi ripresa la notizia ovviamente da tutti i giornali del mondo già in mattinata circa un'ora dopo la sua partenza si qua vedete alcuni delle testate che hanno ovviamente passato la notizia tra cui il Corriere della Sera che aveva riportato appunto la notizia in questo caso di yuri gagarin tornato a casa tornato a terra io penso giampietro che sia il caso comunque di fare un punto diciamo qui per ricordare che questo è il secondo enorme smacco mettetevi nei panni di un cittadino statunitense siete la potenza tecnologica emergente dalla seconda guerra mondiale e per la seconda volta l'unione sovietica spedisce sopra le vostre teste qualcosa in un primato senza precedenti e un enorme smacco quello di avere yuri gagarin in orbita prima di qualunque americana lunghissima rincorsa degli americani all'inseguimento dei russi con un affiancamento che molti esperti vedono dal punto di vista tecnologico all'epoca delle missioni Mercury e un superamento finale arrivato sul filo di lana ma arrivato con le missioni lunari ma in questo momento il mondo dello spazio è completamente di fatto nelle mani dei sovietici sì ecco peraltro non so se l'hai detto e ti abbiamo un attimo perso però il primo obiettivo vinto e raggiunto per primi dai sovietici è stato quello di aver posto in orbita un satellite artificiale lo Sputnik il 4 di ottobre del 1957 quindi qualche anno prima del volo di Yuri Gagarin ancora una volta i sovietici anzi per la prima volta hanno raggiunto l'obiettivo prima degli americani che era stato quello di aver posto un satellite artificiale in orbita terrestre quello che avete visto messo sulla testa rovesciata nella foto iniziale ma ve lo ricorderete la sfera con le quattro con i quattro baffi diciamo anche quella è una forma diventata famosa esattamente e quando sono le 10.25 arriva il momento della manovra calcolata per il rientro l'abbiamo accennato è tutto fatto in modo da riportare giù Yuri dopo una sola orbita e per fare questa cosa è necessario frenare come si frena si gira la capsula a testa piedi e si accende il propulsore per un adeguato numero di secondi quanto sufficiente per abbassare la quota della capsula di pochissimo ma il resto lo farà l'atmosfera un momento fondamentale che avviene quando sono le 7.25 del mattino penso che sia ora UTC in questo caso quindi le 9.22 italiane e qui quello che succede è che la capsula naturalmente dopo la frenata dovrebbe far esplodere queste piccole cariche esplosive che hanno le brevi delle delle di cui abbiamo parlato in una versione la sfera si dovrebbe a quel punto orientare automaticamente piedi verso terra e esporre la superficie protetta dalla diciamo do Iuri al rientro ma le cose non vanno così l'accensione avviene correttamente ma il gancio di rientro non si apre completamente il gancio scusate che tiene legato l'ombelicale che tiene legato il modulo di servizio a quello di orbitale e lo vedete in questa bella illustrazione di Giuseppe De Chiara e sarà solo l'attrito causato dalla capsula che entra al contrario cioè esponendo la parte non protetta al calore a liberarlo meccanicamente altrimenti il volo di Yuri Gagarin sarebbe stato il suo primo e il suo ultimo la capsula si separa un po' dentro della capsula che non sarà esattamente quello desiderato anche se sempre in ambito sovietico quindi su terreno amico e con l'attrito vedete finalmente la capsula è libera di orientarsi in maniera corretta e qui c'è la piccola menzogna di cui parlavamo prima perché per l'omologazione del record di altitudine dagli organismi internazionali aeronautici il pilota doveva atterrare all'interno del suo veicolo ma Yuri Gagarin viene eiettato con il suo sedile appositamente perché non si era sicuri delle prestazioni del paracadute molto più in alto del punto di atterraggio su terra e quindi di fatto il suo record non si sarebbe dovuto omologare comunque a circa 7000 metri la sua tuta protettiva gli consente di eiettarsi fuori dalla capsula ed è quello che succede sei frizzato vediamo vediamo se torni ok sei tornato sì sì ci sono ci sono ci sono ci sono e dopo siamo arrivati all'espulsione l'espulsione è arrivata giampietro sì sì arrivata arrivata e naturalmente Yuri Gagarin ricade in territorio ucraino a bordo scusate rallentato dal suo paracadute personale in un certo senso in gran segreto è un po' lontano dal punto calcolato di arrivo e qui vedete i resti della capsula che è tutta carbonizzata ma espone questa struttura a nido d'ape naturalmente la capsula non si schianta il paracadute performa correttamente e verrà poi recuperata tant'è che oggi è custodita in un museo sono le 10.55 e l'impresa di Yuri Gagarin ormai è passata alla storia in un museo qualcosa tu salta dentro in qualche momento che è così sia che non capisco bene quando tu sei bloccato o smetti di parlare per per lasciare spazio comunque ok allora sai cosa faccio dirò over alla fine dei miei interventi come in un collegamento con la ISS così è più facile capire se sono congelato o meno qui abbiamo magari lo lascio commentare a te che io provo a tirar su un altro browser vediamo se almeno per la parte finale evito sto singhiozzo sì poi ecco magari mi mandi alla prossima slide tu però ecco in questa immagine si vede un po' il ritorno a casa di Yuri Gagarin che come potete immaginarvi è stato qualcosa per chi lo ha visto ricadere in mezzo a un campo di inaspettato non era stato annunciato ovviamente non erano esperienze vissute in precedenza e vedersi atterrare un essere umano in un tutone con un casco da diciamo da pilota ma mai visto prima soprattutto da persone in un territorio contadino come era quello in cui lui è andato a cadere era qualcosa che li ha sicuramente meravigliati ovviamente queste immagini poi hanno fatto la storia hanno fatto il giro del mondo a documentare il ritorno a casa sano e salvo di Yuri Gagarin al termine del suo volo dicevamo prima della piccola bugia raccontata non tanto piccola in realtà perché se pensiamo dal punto di vista ingegneristico e alle regole che erano state diciamo messe in piedi per come dire garantire che il volo fosse di successo l'aver fatto tornare a casa Yuri Gagarin non all'interno della capsula ma eiettato dal suo seggiolino e appeso a un paracadute sicuramente non sono un pieno successo però se pensiamo al contesto storico e a quello che in quel momento la tecnologia consentiva e alla corsa a cui sia Stati Uniti che Unione Sovietica andavano incontro lo possiamo accettare diciamo che sia stato gestito in questo modo non sminuisce per niente il raggiungimento dell'obiettivo semplicemente ecco tecnicamente c'è una casellina non totalmente al suo posto ma per me perdonabile certo dal punto di vista politico se questa cosa si fosse saputa in quel momento non era non sarebbe stato a vantaggio dell'Unione Sovietica quindi si è in tutti i modi tenuta nascosta vediamo Giampise con il nuovo browser sono più stabili o meno e ci ho provato vediamo vediamo e allora qui vediamo forse in alcune foto artefatte ma non lo dico con cattiveria trovo molto improbabile che ci fosse un fotografo ad aspettare Yuri Gagarin a terror che fosse stato così veloce da riuscire a scattargli le foto pochi istanti dopo rientro ma poco importa è un'immagine simbolica che vuole fare vedere delle figure rappresentative della realtà contadina dell'Unione Sovietica che non è stata scelta a caso era per fare vedere l'unione tra il popolo anche quello più umile tra virgolette che lavora ai campi e forse quello che è la punta massima dell'espressione tecnologica dell'Unione Sovietica che è proprio Yuri Gagarin la sua capsula la sua impresa è un'immagine di grande forza e ricordiamo che tutto quello che vediamo è comunque soggetto a un processo di propaganda importante che fa parte dello spirito dell'epoca quindi intanto però Yuri Gagarin conclude eroico il primo grande passo dell'umanità e festeggiare Yuri Gagarin ha anche questo senso Gian Pietro secondo me quello che al dirà della forza storica del suo evento nel contesto degli anni sessanta c'è un'eredità che appartiene a tutti noi anche oggi perché magari tra mille anni se non ci saremo autodistrutti ancora oggi ancora allora si potrà dire che il primo grande passo dell'uomo che come Tsiolkovsky preconizzò lascia a un certo punto come un bambino la sua culla per avviarsi con il suo passo deciso nella vita così altrettanto questo primo passo fu compiuto proprio da Yuri Gagarin sì sì assolutamente adesso il prossimo anno festeggeremo sessant'anni dal primo volo di Yuri Gagarin quindi quasi una vita umana in un certo senso ma sono certo che questo farà parte lo è già ma farà parte per sempre dei libri di storia dell'umanità come uno dei grandi traguardi raggiunti come la scoperta dell'America come tutti i traguardi che l'uomo ha raggiunto e documentato nella sua storia e forse lo considereremo lo ricorderemo in futuro come l'inizio di una nuova era che probabilmente a quell'epoca si pensava molto più vicina di conquista del cosmo in qualche modo e oggi dopo sessant'anni tutto sommato non siamo andati gran lontani dal nostro pianeta però sicuramente il grande simbolo resta del primo tentativo di abbandonare la terra su cui siamo nati e su cui tuttora viviamo chiaramente e la certificazione dell'orario esatto di lancio ci arriva proprio dal cartello messo qui che dice 12 aprile del 61 10.55 ora di Mosca Moscovo Vreme Moscovo Vreme che è qui abbreviato in cirillico e c'è la foto della prima contadina mi ricorda per forza una pubblicità assurda Gian Pietro non so se ti ricordi anche tu di quello che atterrava in un pollaio dell'Ucraina alla caduta vicino alla caduta dell'Unione Sovietica dello smembramento in varie repubbliche caccaia ucraina insomma interessante è diventato un pezzo di costume anche per per i commercial occidentali eh sì e questo e questo video cosa facciamo Giampi qua sono passato su Chrome sembra aver sembra non lo voglio dire sembra aver risolto un bel po' di problemi ero su Firefox mannaggia ok ma possiamo anche sentarlo se non ricordo male la slide successiva è praticamente conclusiva poi se vuoi mostrarlo beh possiamo anche mostrarlo guarda mostra in pochi minuti eh il resoconto di quanto abbiamo già detto in ogni caso sono tutti filmati che trovate liberamente su YouTube e ve li potete poi rivedere con calma però raccontano i video in immagini eh quello di cui abbiamo parlato poco fa certo certo assolutamente eh mancano sì credo che sia un pari di minuti e se non arrivo troppo rotto a livello di di audio lo lascerei andare no per ora l'audio è buono ti sento bene e abbiamo raccontato un sacco di cose Gianpietro se siamo verso la conclusione io magari poi passiamo anche prima di finire le immagini sul tuo di video a che punto è penso che sia sul lato diurno quello che vedo nella mia piccola preview siamo a un'ora e ventiquattro su un'ora e trentanove della totalità del video quindi sì diciamo che ci siamo stiamo per concludere la nostra orbita uno delle uno delle osservazioni che mi era capitato di fare in varie conferenze è che mi è capitato di ridiscutere con varie persone nel corso degli anni e anche perché per mandare una persona nello spazio è necessario usare un razzo la risposta che in definitiva è il mezzo più efficiente per ottenere il massimo dell'accelerazione nel più breve tempo possibile superando nel più breve tempo possibile gli strati più esterni più aereo particolare in grado di volare piano piano sempre più alto sempre più alto sempre più alto e sempre più veloce otterremmo alla fine lo stesso risultato di un razzo cioè arrivare a questi fatidici 28.000 km orari a una quota sufficiente da non risentire troppo dell'attrito dell'atmosfera e questo sarebbe sufficiente per restare in orbita ma sarebbe altamente inefficiente la quantità di propellenti da portare con sé sarebbe enorme considerato invece le prestazioni di un razzo e quindi si unisce l'utile al dilettevole dove l'utile è quello di arrivare dove si vuole il più presto possibile alla velocità che si vuole il dilettevole è per noi appassionati vedere queste immagini stupende di questi mezzi che sono di fatto delle piccole esplosioni controllate arrivare nello spazio rombando e facendo un sacco di rumore qualcosa di bellissimo che ho avuto la fortuna di vedere un paio di volte nella mia vita e che auguro a tutti prima o poi di riuscire ad assistere quello di un lancio spaziale sì sebbene io non sia mai riuscito ad assistere a un lancio in prima persona comunque ho avuto l'occasione di vedere dal vivo degli esemplari di razzo compreso il Saturno 5 della corsa alla luna americana e le dimensioni sono impressionanti quindi raccontiamo che rappresenta il modo più efficiente la quantità di carburante e di ossigeno che è necessario portarsi è impressionante se lo proporzionate alle dimensioni ovviamente l'R7 non ha le proporzioni del razzo Saturno 5 o dell'N1 che i sovietici avevano cercato di costruire in contemporanea per la corsa alla luna ma in ogni caso provate voi a percorrere una strada per una trentina di metri e pensare che quella distanza va in verticale insomma è un bel palazzo quindi fa comunque impressione ecco l'ultima slide che avevo inserito era questa perché vi invito si può anche acquistare è stato anche doppiato in italiano questo questo DVD o insomma lo trovate anche penso nei formati digitali che è un video che racconta proprio la storia di Yuri Gagarin in formato cinematografico però molto bello è stato fatto da credo una casa cinematografica russa ma la qualità del film è molto buona se paragonata adesso non per smicuire la cinematografia russa però non credo di aver mai visto dei film russi di paragonabili a blockbuster americani o simili mentre questo è fatto veramente bene credo che anche la Rai lo abbia mandato negli scorsi anni forse proprio in occasione della celebrazione del volo di Yuri Gagarin ma comunque acquistabile mi invito a guardarlo se ne avete occasione ricordo anche personalmente una serie molto bella che ho visto su National Geographic dedicata alla vita invece di Korolev e del programma spaziale russo una vita che è stata ricostruita attraverso varie testimonianze di suoi coevi ma soprattutto da questo lavoro portato avanti da Boris Certo uno degli scienziati degli ingegneri che lavorava nel team di Korolev i suoi libri sono stati tradotti in inglese dalla NASA che ha ingaggiato un famoso storico Asif Siddiqui è stato ingaggiato per questo lavoro di traduzione e di ricostruzione e si sono usciti in quattro volumi sono dei pdf credo anche in realtà poi ora disponibili in vari formati di ebook scaricabili gratuitamente dal sito della NASA Rocketman si intitola si intitolano insomma vi invito sempre se siete quei nerd spaziali che noi ci pregiamo di cercare di stimolare ad andarlo a scaricare a leggerlo magari piano piano anche migliorando magari le vostre conoscenze d'inglese se mai ne aveste bisogno va bene Gian Pietro vediamo siamo arrivati in fondo a me dispiace non aver avuto l'idea prima di cambiare browser che sia stata la mossa risolutiva ma vabbè cosa vogliamo fare hai avuto una micro interruzione comunque ma direi che le cose sono andate molto meglio sì direi che siamo in fondo quindi abbiamo completato la nostra ideale orbita se andiamo anche a vedere lo scorrere del tempo sul nostro firmato vedete che mancano una decina di minuti alla conclusione dell'orbita e quindi direi anche la conclusione della nostra chiacchierata che spero sia stata piacevole e non troppo noiosa vogliamo vedere se c'è qualche domanda nella chat poi magari prima di concludere se vuoi aggiungere la curiosità sui motori dell'N1 va bene allora diamo la parola alla nostra chat che mi sembra tranquilla forse li abbiamo addormentati tutti spero di no o forse naturalmente Gian Pietro siamo stati così esaustivi che allora intanto vedo che c'è il nostro Ennio che sulla chat di youtube ci chiede se Yuri Gagarin respirava ossigeno puro all'interno della tuta ecco ricordiamoci che lui è sempre stato all'interno della sua tuta vuoi rispondere a questa domanda devo andarlo a cercare ti dico la verità non ricordo se respirasse ossigeno puro o meno devo andarlo a cercare vediamo anche questa è una cosa che io non so quindi nel frattempo lo cerchiamo mentre tra le domande facebook c'è qualcosa direi di no vediamo un po' era la so sk1 e andiamo a vedere no dunque nel frattempo magari mentre scusate wikipedia fa la sua ricerca magari mi viene in aiuto purtroppo era una tuta da IVA cioè IVA scusate quindi intraveicola activity non era una tuta progettata per operare al di fuori dei confini della capsula quindi può essere considerata una tuta salvavita nel senso che in caso di depressurizzazione avrebbe semplicemente continuato a fornire a Yuri Gagarin la pressione e la quantità di ossigeno sufficienti a respirare ed arrivare probabilmente a terra perché a quel punto comunque il volo sarebbe stato garantito anche senza pressione interna della capsula e non dovendo nemmeno operare anche se fosse stata particolarmente rigida non sarebbe un grosso problema però qui non riesco a capire qual è quindi rimane una domanda a Ennio da cui rispondere con un pochino più di calva è una domanda interessante messo in difficoltà infatti anch'io questa cosa non la so non lo so esattamente no i motori a razzo del razzo N1 beh allora intanto il razzo N1 era un razzo gigantesco paragonabile per dimensioni quindi alto un centinaio di metri e di una complessità straordinaria che era stato messo a punto dall'Unione Sovietica per cercare di portare un russo un sovietico sulla luna prima degli americani il progetto vide la costruzione di vari esemplari di questo razzo tutti quanti quelli che furono ranciati esplosero di fatto o sulla rampa o pochi metri dopo la rampa andando anche a fare dei danni ingenti enormi alla rampa stessa quindi causando ulteriori problemi anche se se fossero costruiti razzi in serie se danneggiate come dire il punto di partenza diventa un po' più complicato lasciare la terra e venne praticamente venne ordinato agli scienziati agli ingegneri di distruggere ogni traccia di questo di questo razzo e se da un lato insomma le tanniche del propellente di fatto sono dei grossi silos sono dei serbatoi non sono niente di particolarmente avanzato o non erano niente di particolarmente avanzato dal punto di vista tecnologico i motori a razzo erano davvero la tecnologia più importante forse legata al razzo un po' come oggi anche se va bene oggi sono un po' diversi c'è anche tanta tecnologia legata poi ai sistemi di guida e controllo ma all'epoca si decise di contravvenire tra virgolette a quest'ordine e di fingere la distruzione di questi motori e di chiuderli invece in un magazzino dal quale decenni dopo furono tirati fuori e spediti alcuni esemplari negli Stati Uniti dove furono la base dello sviluppo dei motori RD80 che oggi spingono l'Atlas il razzo Atlas ed è una se ci pensate una cosa pazzesca che un lavoro ingegneristico iniziato nel pieno della guerra fredda da due potenze pronte a diciamo a sferrarsi il colpo letale della guerra termonucleare abbia trovato una seconda vita per lanciare satelliti compresi satelliti della difesa americani per conto di ULA e quindi oggi quando guardate la partenza di un Atlas 5 andate a vedere i filmati su youtube ci sono due giganteschi motori alla base di questi razzi sono motori particolari a ciclo chiuso in grado di operare a pressioni pazzesche e stanno lì perché gli americani anche in questo campo non sono stati in grado di produrre un motore a ciclo chiuso autonomamente per tantissimi anni e hanno preferito acquistare la tecnologia dall'ex unione sovietica e questa è un po' la storia della scomparsa e del ritorno come fossero una fenice dei motori a razzo dell'RN1 e niente vedo che i titoli di coda i titoli di coda corrono non solo sulla nostra serata ma anche sul video di Paolo che ci mostra il ritorno ideale di Yuri Gagarin verso la terra direi che con questo possiamo concludere Marco grazie veramente infinite di aver mi fatto compagnia e di aver chiacchierato per la verità per gran parte quindi grazie della tua cavalcata in questo ricordo del volo di Yuri Gagarin è stato piacevole spero per me lo è stato spero per tutti quelli che ci hanno seguito aggiungo soltanto per chi ci ha seguito dopo le scorse occasioni in cui abbiamo fatto già un paio di tentativi di eventi live non dal planetario ma da casa nostra che le sorprese non sono finite intanto vi invito a continuare a seguire quello che quasi quotidianamente i nostri esperti social Cecilia Enio e gli altri pubblicano sulla pagina facebook sul nostro sito internet e in tutti i canali da cui ci potete seguire ho già visto che Cecilia ha preparato l'annuncio delle prossime pubblicazioni delle rubriche ormai a cadenza settimanale che usciranno nei prossimi giorni ma stiamo preparando anche qualche altra sorpresa per le prossime settimane ci abbiamo tenuto a saltare questo venerdì con l'occasione della Pasqua e comunque tenervi compagnia con la Yuri's Night ma vediamo se già dalla prossima settimana abbiamo qualche altra sorpresa da proporvi e poi sicuramente fra due settimane vi toccherà rivedere la mia faccia forse di nuovo non da solo ma non vi dico il perché quella lì sarà una sorpresa va bene grazie a tutti anche da parte mia scusate i piccoli glitch tecnici vi auguro un'ottima conclusione della serata di Pasqua manca ancora un'ora prima della mezzanotte se vi è rimasto un po' di spazio nello stomaco fate come me andate a mangiarvi un po' di dolce tanto poi si comincia a bruciare dalla settimana prossima correte sul posto in casa e tutto è a posto grazie a te Gian Pietro dell'opportunità e va bene io l'ho preso il cioccolato io devo andarlo a rubare in camera di mia figlia credo che se lo sarà nascosto sotto il letto andremo a vedere vi invito naturalmente a seguire tutte le iniziative del planetario di Lecco anche in questo periodo un po' particolare si sono armati di santa pazienza come ha detto Gian Pietro per portare la divulgazione a casa in tanti modi e per quanto ci riguarda come associazione ISA su forumastronautico.it o se vi va di ascoltare qualche podcast mentre sempre fate sport correndo il suoi giù nella tromba delle scale Astronauticast dai cui schermi stiamo trasmettendovi questa sera e questo è tutto allora Giampi chiudi te vogliamo fare un saluto finale? beh un saluto con il dolce col cioccolato buona Pasqua ancora a tutti grazie Marco dell'ospitalità grazie a tutti gli amici di Astronauticast di Isa alla prossima alla prossima ciao a tutti